Bentornati, allora qualche giorno fa ero a New York e dovendo scegliere lo spettacolo da andare a vedere ho deciso di andare a vedere Back to the Future, il musical, ovversa quello spettacolo teatrale tratto dall'ormai leggendario film di Robert Zemeckis, Ritorno al Futuro del 1985 Michael J. Fox, Christopher Lloyd, che sicuramente tutti avete visto o se non avete visto quantomeno sapete che è esistito e quindi ho scelto di andare a vedere questo spettacolo che oggi vi racconto e che oggi vi recensisco allora lo spettacolo aveva debuttato a Londra nel febbraio del 2020, quindi immaginate in pieno disastro Covid infatti aveva fatto pochissime recite, poi era stato sospeso per un annetto circa lo spettacolo è ancora in scena oggi a Londra naturalmente e ha debuttato a Broadway lo scorso luglio avendo quindi sentito parlare molto di questo spettacolo, avendo visto alcune immagini insomma ero molto curioso di andarlo a vedere ora il mio consiglio sempre se andate a vedere dei musical a Broadway o a Londra è sempre quello di prendere dei biglietti last minute cioè trovate dei posti dove il pomeriggio stesso dello spettacolo o addirittura due ore prima dello spettacolo trovate dei biglietti a prezzo molto molto scontato che loro praticamente in questa maniera coprono coprono quei rari buchi che si possono trovare se invece avete necessità o voglia come ho fatto io di dover scegliere uno spettacolo preciso per una data precisa e beh allora dovete comprarli in anticipo e vi assicuro insomma che i biglietti sono molto 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 cari sono dei prezzi che un teatro italiano che fa musical non potrebbe mai proporre al proprio pubblico perché rischerebbe veramente di avere non mezza sala vuota molto meno di mezza sala vuota invece a Londra e New York al netto del fatto che sono città che costano di più mediamente di noi ma non c'è comunque rapporto tra quanto costa New York aspetto a Milano e quanto costa un biglietto di un musical a New York aspetto a quello che costa a Milano però ci sono alcuni distinguo da fare innanzitutto c'è come dire culturalmente di più l'abitudine di spendere una cifra importante per uno spettacolo teatrale perché comunque è vissuto come un evento è vissuto come una cosa importante è vissuto come ma insomma quel musical devi averlo visto quindi se vogliamo c'è anche una questione come dire di costume ecco da altro lato mediamente gli spettacoli che si vedono a Broadway o Londra sono senza nulla togliere quelli che si fanno in Italia di un altro pianeta di un altro pianeta adesso vi racconterò meglio nel corso di questa recensione di che spettacolo stiamo parlando allora New York spettacolo in scena al Winter Garden Theater di Broadway quindi insomma in pieno Broadway ed è appunto come ho detto la riproposizione in chiave musical del celebre film innanzitutto quello che vi dico che hanno dato un taglio molto più comico allo spettacolo teatrale rispetto a quello che era il film il film era una commedia con un tocco di fantascienza derivato dal fatto della macchina del futuro eccetera eccetera della macchina del tempo per essere più precisi eccetera eccetera mentre come dire il taglio che viene dato allo spettacolo teatrale è un taglio decisamente più comico quindi si ride molto di più e sono state inserite tutta una serie di battute appositamente per rendere lo spettacolo più godibile più leggero e nel complesso più divertente la trama è la stessa del film compro alcune cose che sono state cambiate per necessità o narrative o sceniche banalmente per esempio i terroristi libici che nel film uccidono Doc qui non ci sono non so se perché non si è voluto andare a scomodare il terrorismo islamico che magari insomma sapete che in America sono sempre molto attenti a non offendere mai nessuno è stata cambiata la cosa con il plutonio che uccide Doc e va bene insomma oppure non c'è l'investimento che aveva fatto il nonno al papà di Martin McFly semplicemente insomma lui cade dall'albero e viene portato in casa loro in questa maniera allora la prima cosa che ho notato entrando nel teatro è che hanno fatto e questa cosa c'è non solo a Broadway ma anche a Londra nell'allestimento londinese che la trone è lo stesso insomma l'energia è la stessa l'allestimento è lo stesso non si sono limitati all'allestimento del palco ma hanno portato le scenografie al di fuori del palco come vedete in questa immagine cioè praticamente queste specie di tubi che poi nel corso dello spettacolo si illuminano in varia maniera che sono una sorta di immaginate di un circuito elettronico insomma ecco che escono dal palco e vanno praticamente ad abbracciare quasi tutta la platea e oltre a questo c'è un doppio schermo di proiezioni quindi uno proprio sul frontespizio del palco e uno invece all'indietro uno invece in fondo al palco questa cosa dà la possibilità di una serie di proiezioni di grande effetto soprattutto quando entra in scena il pezzo forte dello spettacolo cioè la macchina la macchina del tempo che è al netto poi dell'ultimo colpo di scena che vi racconterò chi vi racconterò alla fine è insomma è veramente la vera protagonista di questo spettacolo perché insomma le vengono fatte fare una serie di cose veramente importanti e impressionanti dal punto di vista dell'impatto visivo ecco veramente veramente notevoli in particolare quando la macchina corre quando la macchina insomma corre veloce la macchina adeguatamente mossa con un gioco di luci sapiente e con queste proiezioni di cui vi parlavo prima di due schemi di proiezione eh ragazzi sembra veramente di vedere un film di vedere una macchina che sta andando a cento all'ora insomma ecco quindi da questo punto di vista veramente questi spettacoli valgono veramente ogni centesimo perché come ho già detto nella mia recensione del fantasma nell'opera fatta a Milano è come vedere un film ma lo si vede a teatro ecco per qualità per cura del dettaglio per costumi per cambi di scena per giochi di luci per bravura ovviamente degli attori insomma ecco si assiste a uno spettacolo che si può definire semplicemente perfetto la puntista tecnica poi per piacere non piacere questo non si discute evidentemente ma lo spettacolo la puntista tecnica è perfetto non c'è la minima sbavatura non c'è la minima luce non precisa non c'è il minimo ingresso non fatto al centimetro insomma per fare una roba del genere ci vuole a un'enorme professionalità e b ovviamente un lungo lungo periodo di prove in particolare devo dire di essere stato colpito dalla bravura dei protagonisti ma ho trovato strepitoso corpo di ballo e coristi veramente di una di una bravura di una bravura imbarazzante una 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 perfezione tecnica sia nel ballo che nel canto che che a Broadway è la norma insomma nel senso non si non si richiede niente di meno insomma chi ha visto il film Chorus Line con Michael Douglas che poi era tratto anche quello da un da un noto spettacolo da un noto musical di Broadway chi ha visto Chorus Line sa che cosa va cercando un regista non dai protagonisti ma dal punto della Chorus Line quindi dai coristi e dai ballerini quindi la perfezione niente di meno della perfezione come dicevo il pezzo forte dello spettacolo è la macchina la macchina che fa una serie di acrobazie una serie di evoluzioni sul palco ed è ovviamente e non è libera naturalmente insomma è attaccata ad alcuni bracci mobili però è fatto talmente bene è fatto talmente bene che veramente non ci si accogge insomma sembra che sia è veramente una macchina che sta andando sul palco come se fosse una macchina vera e questa insomma è tanta tantissima roba che richiede ovviamente un'organizzazione tecnica non solo impegnativa ma anche che deve essere impeccabile perché poi basta altrimenti il minimo imprevisto e si svela il trucco è come un trucco di magia no? o è fatto in maniera perfetta sappiamo tutti che è un trucco ma ci stupiamo comunque di quello che vediamo se scopriamo il trucco ovviamente la magia precipita e a teatro non è non è tanto tanto diverso allora le evoluzioni che fa la macchina arrivano veramente all'apice dello spettacolo nel finale del musical quando la macchina vola e quindi proprio si solleva da terra e si gira con loro dentro tra l'altro con Doc e con Marty all'interno della macchina quindi la macchina si solleva da terra poi viene fumo luci eccetera eccetera arriva ben oltre la buca la buca dell'orchestra e si gira praticamente di 360 gradi quindi lasciando i due occupanti a testa in giù insomma ed è veramente molto molto bello anche lì ripeto c'è un braccio meccanico che la tiene ma è fatta talmente bene che che non si vede il braccio meccanico e insomma e che lascia veramente veramente a bocca aperta la cosa di per sé non è nuovissima chi ha visto Miss Saigon si ricorderà sicuramente del famoso elicottero che entrava in scena insomma quindi queste sono cose veramente insomma che solo forse gli americani possono fare e che ti giustificano il fatto che stai pagando un biglietto che costa una fucilata veniamo ai protagonisti la parte di Doc è fatta da Roger Barth attore molto bravo esperto insomma del teatro musicale sia di di Londra che di Broadway non per niente lui era il Doc che aveva debuttato a Londra quindi insomma veniva anche da due anni di spettacolo ultra ultra rodato quindi ovviamente entrare in una nuova produzione dopo averne fatto due anni di una precedente che comunque è lo stesso allestimento ovviamente semplifica parecchia la cosa molto molto bravo un bravissimo attore un attore anche molto brillante comico ripeto la sua parte in particolare è stata resa particolarmente comica qui tra l'altro lo vediamo con l'originale Doc cioè con Christopher Lloyd un bravo cantante è veramente un grande istrione un super super professionista la parte di Marty McFly è invece interpretata da Casey Likes che vediamo in questa foto qui lo vediamo tra l'altro con qui con Michael J. Fox ai tempi del ai tempi del film e qui con Michael J. Fox oggi cioè pochi mesi fa come sapete Michael J. Fox è gravemente emanato da tanti anni insomma in questa foto si vede tutta la la sofferenza del percorso che sta facendo questo tanto bravo quanto sfortunato attore devo dire insomma che è molto bravo canta bene si muove molto bene anche lui bravissimo ecco lui un bravissimo professionista al debutto in questo al debutto in questo ruolo anche se poi devo dire che non credo che la parte di Marty McFly pur essendo il protagonista proprio per come è stata scritta sia quella che abbia più spazio e più visibilità all'interno dello spettacolo cioè anche se ovviamente è il protagonista ed è in scena dall'inizio alla fine ci sono due figure che secondo me lo sovrastano e sono appunto quella di Doc ma soprattutto la parte dell'attore che interpreta George McFly cioè il papà di Marty che è Hugh Coles che vediamo che vediamo in questa foto che era ragazzi di una bravura imbarazzante veramente se dovessi scegliere uno tra tutto il cast tutto fatto da professionista di altissimo livello sceglierei lui perché è una capacità di veramente di recitazione di ballo e di canto veramente un super super professionista che da solo merita da solo merita la visione dello spettacolo quindi uno spettacolo sicuramente che vale la pena vedere che vale la pena vedere e che sono contento assolutamente di aver visto il teatro era pieno non stra pieno ma vi direi pieno al 95% e d'altronde questi spettacoli stanno in piedi solo esclusivamente in questa maniera perché non hanno come probabilmente sapete subvenzione pubblica sono tutti teatri privati che si sostengono con i biglietti e col merchandising anzi con merchandising spesso si guadagna ma come anche nel cinema ormai è una quota importante degli ingressi però uno spettacolo del genere lo si può mantenere se il teatro è sempre pieno o giù di lì altrimenti la formula d'altronde è tipica americana o anche di Londra la formula del long running show cioè lo spettacolo che resta in scena finché c'è gente che lo va a vedere c'è programmazione diversa dai nostri teatri che dicono dal 10 di gennaio al 2 di febbraio ci sarà questa cosa in scena 2 di febbraio si cambia dal 4 di febbraio al 3 di martio ci sarà quest'altra cosa lì uno spettacolo resta in scena finché c'è gente che lo va a vedere ecco perché poi si arriva a fenomeni teatrali come le miserabili o di opera dove insomma che sono rimasti in scena per decenni fondamentalmente però per fare una roba del genere e averlo tutto esaurito tutte le sere o comunque insomma se non tutto esaurito in ogni ordine di posti avere il 90 95% dei posti occupato tutte le sere altrimenti una macchina così costosa non riesce assolutamente a mantenerla in piedi quindi ribadisco spettacolo assolutamente da vedere non so se verrà mai in Italia io ne dubito ma se dovesse capitare a Londra o a New York vi consiglio assolutamente di andarla a vedere perché è uno spettacolo è una quantità enorme di cambio di scene di cambio di costumi le luci i balletti insomma tutto è veramente ad altissimo livello è veramente la serie A del musical tutto bello tutto bello sì tutto bello dal punto di vista spettacolare diciamo che i limiti di questo di questo spettacolo a mio parere sono due il primo è che non ci dice niente di nuovo è uno spettacolo tipico della tradizione americana inglese di musical con tutto ciò che ci aspetteremo è uno spettacolo del genere quindi la brillantezza quindi la spettacolarità la altissima professionalità degli attori cantanti ballerini eccetera eccetera perfetto dal punto di vista tecnico niente di nuovo però ecco sono questo è importante dirlo non è uno spettacolo poi è uno spettacolo che resterà in scena per tanti anni e io francamente glielo auguro perché assolutamente lo merita non è uno spettacolo rivoluzionario non è uno spettacolo ma neanche innovativo non è uno spettacolo che si dirà questo spettacolo ha cambiato la storia del teatro o la storia del musical come può aver fatto a Stantano di Opera o o le Miserable o altri spettacoli Giuseppe Superstarmi Saigon non è stato o Cats insomma non è stato non sarà non è e non sarà un spettacolo rivoluzionario però è uno spettacolo veramente bello come dire che se hai la capacità il know-how e ovviamente la copertura finanziaria per portare in scena uno spettacolo del genere lo fai nella migliore maniera e questo è stato fatto il secondo punto non voglio dire dolente ma probabilmente debole sembra dirlo in un musical ma sono le musiche le musiche sono accreditate ad Alan Silvestri che aveva scritto naturalmente la colonna sonora del film con il suo famosissimo tema e Glenn Ballard che è un solido e pluripremiato professionista della musica pop e del teatro e del teatro musicale vi devo dire che sono tutte canzoni molto belle ma niente di memorabile cioè c'è un pezzo che ricordo abbastanza bene che è It Works per tutto il resto ha fatto secondo me un po' il compitino anzi io la mia impressione mia impressione non vi sto dando un dato vi sto dando una mia una mia una mia idea che magari assolutamente non corrisponde alla verità è che le musiche di Silvestri siano quelle del film che sono molto presenti cioè vengono utilizzate come esattamente come una score di un film in tanti punti dello spettacolo mentre secondo me le canzoni sono state scritte non da Silvestri ma da Glenn Ballard ripeto le canzoni sono tutte belle tutte funzionali niente che veramente cioè generalmente uno dovrebbe uscire da uno spettacolo canticchiando in testa canticchiando in testa il tema principale o un pezzo del musical si fa così nel insomma in tutti i musical che sono restati in una storia succede questa cosa insomma qui secondo me non succede viene è vero che si sopperisce con un impianto tecnico e scenico veramente di altissimo livello però insomma io insomma se vado a vedere un'opera mi aspetto che la musica sia altrettanto bella se non più bella delle scene dei costumi insomma ecco in questo senso secondo me le canzoni sono tutte belle tutte funzionali ma niente di memorabile per cui una bellissima esperienza che basta sicuramente la pena di fare che sono contentissimo di aver fatto e se passate per Londo o per New York cercate un biglietto possibilmente last minute oppure se avete la possibilità di prenotarli in anticipo prenotarlo perché sicuramente non scriverete qua sotto nei commenti ma che porcata mi hai consigliato di andare a vedere se l'avete visto o se vi piacerebbe vederlo scrivetelo nei commenti lasciate un like se non l'avete già fatto ovviamente iscrivetevi al canale ci vediamo alla prossima